buongiorno da sicilia 24 ben ritrovati puntuali come sempre per la nostra rassegna stampa del mattino andiamo a vedere cosa ci propongono i quotidiani in edicola questo venerdì 3 febbraio andiamo a fare il giro delle prime pagine per scoprire insieme le anticipazioni attraverso i titoli principali della giornata cominciamo subito il nostro giro partiamo dal quotidiano la sicilia tanti gli argomenti partiamo ad esempio da questo senza vergogna si parla di cronaca cas quindi il consorzio per le autostrade siciliane truccata la gara sull'antincendio di a 18 e a 20 quindi sulle autostrade arrestati un ex dirigente del consorzio e tre imprenditori a portopalo di capopassero invece nel siracusano due consiglieri ai domiciliari per concussione soldi lavoretti e contratti ad amici in cambio di appalti al comune in questo caso ai domiciliari è finito anche l'ex consulente del sindaco di portopalo si parla tanto di autonomia round alla lega meloni invece fredda esulta appunto la lega la premier si defila schifani vigili no all'italia a due velocità queste le parole e il timore un po del presidente della regione siciliana lo sbarco di schlein isola granaio di voti ma il governo la tratta come palla al piede e poi si parla ancora tanto del 41 bis procure divise sul 41 bis a cospito in questo caso il caso dell'anarchico lo ricorderete anche dal dap arrivano accuse a donzelli notizia da castel di judica ambulanza negata per coprire altre zone il sindaco sanzione il 118 e poi rifiuti rifiutati da gela l'assessore di mauro bacchetta i comuni in taglio alto si parla di musica di spettacolo con elodie che ritorna sul palco di sanremo con tanta voglia di mangiarsi il mondo catania invece si prepara la grande festa di sant'agata invasione di turisti proprio per i festeggiamenti agatini ancora catania d'asero e san giorgi lasciano i domiciliari mentre a tre castagni un anonimo fortunato vince 100.000 euro e poi ad acireale domani l'inaugurazione dell'attesissimo carnevale lasciamo il quotidiano la sicilia ci spostiamo sul giornale di sicilia in primo piano si parla di autonomia la strada è aperta titola in questo caso il giornale di sicilia primo passo della riforma tanto cara alla lega le opposizioni all'attacco ma anche nella maggioranza c'è chi forza italia in testa teme che vengano penalizzate le regioni del sud e a proposito di autonomia ha parlato il presidente schifani che dà una chance vedete alle autonomie ma tutelate l'insularità questo quasi l'appello del governatore siciliano caso cospito al 41 bis sulla revoca i magistrati sono divisi voto partiti in cerca di alleanze pd e movimento 5 stelle riprovano a dialogare e ancora crediti dall'irfis per salvare le aziende sequestrate ai boss ai boss scusate mentre ricordate il fatto il delitto dell'insegnante uccisa in questo caso si parla di matricida vedete che va in carcere poiché fu un delitto premeditato e ancora viale delle scienze von der Leyen e mattarella al via dell'anno accademico mercatini invece operazione pulizia in questo caso siamo a palermo rivoluzione decisa dal comune i titolari delle bancarelle avranno sacchetti numerati in cui lasciare i rifiuti mentre attenzione a questa decisione presa dall'arcidocesi di palermo battesimi e cresimi alt a padrini e madrine in tanti non hanno gradito questa decisione anche sul giornale di sicilia si parla di elodie decolla in questo caso elodie dal film al disco alla docuserie i prezzi del gas calo del 34,2 per cento per la bolletta a gennaio e poi la commissione europea kiev vara un altro pacchetto di sanzioni Putin evoca la guerra nucleare ovviamente si parla in questo caso di guerra in ucraina adesso andiamo a vedere la prima pagina dell'edizione palermitana della quotidiano la repubblica la frenata cuva non seguirà il pnr il comune scarica il professore imputato unici referenti saranno il sindaco la galla e la guardia di finanza e poi autostrade scandalo infinito inchiesta della dia sui servizi antincendio delle gallerie ai domiciliari un ex funzionario del consorzio e due imprenditori costruiti bandi su misura per il cartello tra aziende crolli, cantieri, disagi e ora anche arresti per gli appalti pilotati insomma tante tante lagune magagne in questo caso per il CAS il consorzio per le autostrade siciliane ieri invece importante colpo della guardia di finanza a Palermo maxi sequestro di sigarette di contrabbando oltre 12 tonnellate di tabacchi che sono stati rinvenuti scovati all'interno di un tir è stato anche arrestato il camionista si tratta in questo caso di un bulgaro e poi la rabbia all'università il merito fa morire si parla vedete di disagio giovanile scrive Repubblica anche qui vedete la ragazza matricida ha ucciso la madre l'insegnante è stata trasferita in carcere come detto prima si parla di un omicidio premeditato e poi il caso sulla Quotidiano della Repubblica ospice assente in Sicilia vietata la dolce morte scrive appunto Repubblica lasciamo l'edizione palermitana di Repubblica andiamo a vedere la prima pagina dell'edizione nazionale si parla di intercettazioni sul caso cospito nello specifico del mastro ammentito ecco le carte che smentiscono il sottosegretario alla giustizia i documenti del DAP rilevati da Donzelli erano classificati come riservato e non divulgabile critica Forza Italia ma Meloni sollecita Nordio a blindare i due esponenti di Fratelli d'Italia la procura generale di Torino dice no alla revoca del 41 bis le opposizioni maxi sconto a Durigon per comprare casa a Roma il leghista dice era tutto lecito e poi vedete autonomia a primo passo sì al Consiglio dei Ministri Salvini esulta il PD invece è convinto che con questa soluzione vedete si possa spaccare l'Italia lasciamo Repubblica siamo sul Corriere della Sera a proposito dell'autonomia arriva il primo sì ma le regioni si dividono Giorgia Meloni parla di un impegno mantenuto il PD invece su questo tema va all'attacco e poi il caso Cospito Nordio non erano carte segrete il guardasigilli sul caso Donzelli la procura generale Cospito resti al 41 bis l'anarchico in carcere avanti con lo sciopero della fame tensione per cortei occupazione alla Sapienza proseguiamo con la nostra rassegna stampa lasciamo il Corriere questa è la prima pagina del quotidiano La Stampa tra i temi in primo piano c'è l'autonomia via in questo caso l'autonomia regionale i medici così salta la sanità approvato il DDL opposizione all'attacco questo è il decreto dello Spacca Italia abbiamo visto anche prima il governo però accontenta la Lega Salvini esulta ma c'è l'incognita delle risorse e poi l'altro caso di giornata Cospito carte riservate Manordio dice è tutto regolare le mail a Del Mastro del DAP il ministro nessun segreto quindi questo vedete uno dei casi che continua a far discutere ormai da diversi giorni a proposito dell'autonomia siamo sulla prima pagina del quotidiano Il Giornale promessa rispettata arriva il via libera del governo così meno divari fra i territori vedete ovviamente favorevoli e contrari importanti ieri le dichiarazioni del presidente Schifani le abbiamo lette prima lo Stato fa lo Stato Cospito resti al 41 bis magistrati antimafia niente revoca è ancora pericoloso rischio attentati anarchici Sapienza occupata e cortei a Milano vediamo come si evolverà questa situazione intanto arriva una notizia positiva a gennaio si respira si parla di gas qualcosa si muove bollette in calo del 34 per cento e almeno arriva un aiuto per le famiglie italiane e poi a proposito dell'autonomia il fatto quotidiano titola spappolano l'Italia aggirando il Parlamento il regalo a Giorgia di Giorgia Meloni a Matteo Salvini poi basterà un DPCM questo scrive il fatto quotidiano a proposito dell'autonomia definita anche qui vedete spacca nazione approvato dal Consiglio dei Ministri in tempo per il voto ora fanno tutto governo e regione lasciamo anche il fatto quotidiano andiamo a vedere la prima pagina del quotidiano il tempo il caso cospito sempre in primissimo piano provocazione anarchica minacce a Crosetto e Meloni annunciato un imminente attentato a Bologna gli studenti intanto occupano lettere all'Università La Sapienza domani un corteo non autorizzato bufera sul PD per le parole ai boss nella visita in carcere fratelli d'Italia spieghino l'incontro e poi l'amara scoperta di Bonaccini nella cassa dei DEM non c'è un euro scrive il Tempo che a proposito delle bollette titola bollette del gas in calo del 34% primi effetti della discesa dei prezzi internazionali sollievo ovviamente per le famiglie BCE invece rialza i tassi di interesse mutui e prestiti diventano sempre più cari la nazione si sofferma proprio su quest'ultima notizia stangata sui tassi ma il gas almeno costa meno la BCE aumenta di 50 punti il costo del denaro in marzo replicherà salasso prestiti per un mutuo 500 euro in più all'anno i prezzi del metano invece giù del 34% potrà calare l'inflazione sì alla riforma per l'autonomia l'iter sarà a lungo la sinistra sulle barricate e poi attenzione al caso anarchici alta tensione caso cospito procure direzione antimafia arresti al 41 bis si muove la galassia anarchica mentre nordio assolve donzelli e poi il quotidiano libero apre invece con questo titolo doppia libidine approvata l'autonomia e bollette giù del 34% parla il ministro dell'agricoltura Lolo Brigida governi europei in crisi il nostro ora è più stabile le parola anche a Rocca in corsa per la regione Lazio il PD candida un condannato ma attacca me sui soldi e poi sinistra in processione dal terrorista ovviamente si parla di Cospito si allunga vedete la lista delle visite appunto a Cospito e oggi tocca alla Cucchi ed ora lo sport come tutte le mattine andiamo a vedere le prime pagine dei tre principali quotidiani sportivi italiani partiamo in questo caso dalla gazzetta dello sport è vera Juve si parla di Coppa Italia scrive la Rosia Lazio spenta decide Bremer 1-0 Allegri ora ripartiamo in campionato queste le parole di mister Allegri dopo la vittoria dunque Juve in semifinale doppia sfida con l'Inter in aprile dunque certamente una sfida molto molto interessante mentre a proposito di Inter e di Milan in questo caso le due milanesi si preparano al super derby anzi derby per supereroi scrive la gazzetta Lautaro e gli artigli di Wolverine Teo Hernandez invece diventa flash e occhio a Lukaku sembra la cosa davvero simpatica ecco questo accostamento tra appunto i due i campioni di Milan e Inter e poi i supereroi ecco davvero decisamente simpatiche in questo caso la gazzetta questa invece è la prima pagina di Tutto Sport che ovviamente torna sul successo in Coppa Italia della Juve la Coppa ci ridà la Juve scrive il quotidiano torinese un gol di Bremer elimina la Lazio e porta i bianconeri finalmente solidi e concreti in semifinale li aspetta l'Inter per una doppia sfida che per i tifosi significherà molto allegri riecco lo spirito giusto e dopo le batoste definiamole così prese appunto in in campionato l'Inter la Juve scusate almeno rialza la testa in Coppa Italia e può sperare di vincere un trofeo parla invece Luca Marcheggiani ex portiere oggi apprezzato opinionista si proietta verso il derby senza che sì il Milan non ha più una difesa dice Marcheggiani Inter invece Dzeko sempre quindi sempre in campo Pobega non è ancora a livello del Livoriano quindi di Frenchesi che ha lasciato il Milan in estate il Bosniaco invece crea gioco e Lukaku va aiutato queste le parole di Luca Marcheggiani in vista di un derby molto molto importante quello di domenica appunto tra Inter e Milan Milan che arriva da una crisi nerissima di risultati e spera di rialzare la testa nel big match più atteso ovvero quello contro i Cugini Nerazzurri noi intanto ci fermiamo qui chiudiamo questa edizione della rassegna stampa abbiamo fatto il nostro giro dei quotidiani ora le notizie strettamente siciliane grazie alle nostre edizioni di Spazio e Notizia vi terremo ovviamente sempre aggiornati lungo tutta la giornata quindi rimanete con noi a più tardi di spazio a più tardi a più tardi a più tardi a più tardi